La politica è il rapporto reale con la vita dei cittadini, la vita reale, non quella mediata dal racconto di essa. La politica è ben poco se non capisce la preoccupazione di una madre e di un padre che si domandano che tipo di educazione e di ambiente civile riusciranno a garantire al proprio bambino. Se non sente sua l'ansia di un anziano pensionato costretto a fare i salti mortali quando a fine mese arriva la bolletta di riscaldamento. Se non dà risposta alla domanda angosciata di un operaio che vuole sapere se sono vere le voci che annunciano la chiusura della sua fabbrica perché la produzione si trasferisce altrove, in un paese dove si possono pagare salari ancora più bassi e preoccuparsi ancora di meno delle condizioni di sicurezza. Se non vede l'inquietudine di un imprenditore che per fare il proprio lavoro si trova a dover lottare contro mille difficoltà le complessità burocratiche, il peso fiscale, l'assenza delle infrastrutture e con uno Stato che spesso sembra essergli nemico. La politica è miope, non riesce a guardare lontano se si preoccupa solo di chi ha già garanzie e trascura gli interrogativi e la vita di un giovane laureato che non sa che fare se provare a vincere un dottorato di ricerca o continuare a studiare, a fare quello che gli piace e per cui si sente portato, oppure essere realista e cercarsi subito una qualsiasi occupazione, anche precaria, anche sottopagata, costretto a scegliere una vita, quella della precarietà, che è un furto di futuro per un'intera generazione. La politica è miope se non capisce che un bambino disabile, autistico, down è la creatura al mondo che ha più bisogno di avere la società vicina, di sentire la comunità solidale, se non capisce che c'è solo una spesa pubblica che non può mai essere tagliata, quella per loro. Nessuna di queste persone si aspetta che un governo possa risolvere tutti i loro problemi, ma ognuno di loro, giustamente, chiede ascolto, chiede attenzione, chiede rispetto e vuole avere la percezione concreta che qualcuno, i suoi problemi, li sta affrontando davvero. Il Partito Democratico nasce per questo, per far riamare la buona politica, quella che in uno straordinario giorno di ottobre ha portato 3 milioni e mezzo di persone ad animare con la loro passione il loro desiderio di partecipazione. Il Partito Democratico nasce per dare alle donne e agli uomini, e ancor più alle ragazze e ai ragazzi del nostro Paese, la certezza che, se vogliamo, insieme, noi possiamo cambiare la politica e cambiare l'Italia. La scelta è tra passato e futuro. Dobbiamo credere in ciò che l'Italia può essere. Conosciamo le sfide che abbiamo di fronte. Ciò che ci ha impedito di vincerle nella legislatura, che si è appena traumaticamente conclusa, non è stata la mancanza di politiche valide, nemmeno di donne e uomini capaci. È stata la divisione. Una politica divisa. Schieramenti eterogenei. Si sono dimostrati troppo piccoli di fronte alla grandezza delle sfide per l'Italia. Per questo, il Partito Democratico ha deciso, unilateralmente e coraggiosamente, di rompere il vecchio schema politico. Quello delle grandi alleanze pensate solo per battere l'avversario. Le alleanze contro. E di aprire la strada ad un bipolarismo nuovo, fondato sul primato dei programmi e sulla garanzia assoluta della loro possibile attuazione. Noi ci presentiamo agli italiani con una chiara proposta di governo. Un programma, una leadership, un partito che possa realizzare quel programma. Lo state vedendo. Dopo la nostra scelta tutto si è messo in movimento. Anche nell'altro campo. Ma se guardate bene quello che succede nelle loro file, vedrete che sembrano preoccupati più di come vincere piuttosto che del perché vincere. Di come organizzarsi meglio, non di cosa offrire di nuovo all'Italia, di cosa fare di nuovo per gli italiani. D'altra parte, lo dico perché è stato ripetuto in queste ore, d'altra parte hanno già governato l'Italia per sette anni e propongono solo di tornare a farlo esattamente gli stessi di prima, esattamente come prima. Noi invece vogliamo voltare pagina. Noi diciamo non cambiate un governo, cambiate l'Italia. Cominciamo, cominciamo a farlo insieme, trasformiamo questo nostro Paese. Possiamo essere la generazione di italiani alla quale domani i nostri figli e i nostri nipoti guarderanno con orgoglio dicendo hanno fatto ciò che dovevano, l'hanno fatto pensando a noi. Non toccherà certo solo a me, non sarò, non sono solo io a credere nel cambiamento, a lottare per realizzarlo, a voler fare le cose necessarie. Tocca a noi, tocca a milioni di italiani. Dipende da noi, da quello che possiamo fare insieme, quello che insieme faremo. Un'Italia moderna, serena, veloce, giusta. Si può fare. Questi due mesi ci metteremo in viaggio, toccheremo tutte le 110 province italiane, tutta la bellezza e la meravigliosa diversità del nostro Paese. Questi due mesi saranno il modo più appassionante che abbiamo per far vivere le nostre speranze e dare corpo ai nostri sogni. Non sono le speranze e i sogni di pochi, sono le speranze e i sogni di milioni di persone che insieme cambieranno l'Italia. La speranza, il sogno, parole che alcuni giudicano ingenue, astratte, poco adatte alla politica e alla sua cruda esigenza di realismo. Ma speranza vuol dire immaginare qualcosa che non c'è e impegnarsi per renderla possibile, cosa di più bello nella vita. E senza speranza, senza sogno, il mondo non si è mai mosso per cambiare se stesso. La speranza, la fiducia nel futuro, è il motore del cambiamento che serve all'Italia. E' per questo che io mi candido a governare questo nostro Paese, non per ricoprire una carica. E vi chiedo, e chiedo agli italiani, nei prossimi mesi, di pensare non a quale partito, ma a quale Paese. Facciamo un Paese grande e lieve. Una Italia in cui non si muoia per lavorare, in cui studiare e intraprendere sia facile, in cui le donne e gli uomini ritrovino la voglia di viaggiare insieme e sicuri verso il futuro, in cui la politica riscopra il coraggio di rischiare il nuovo. E forse, un giorno, ricorderemo che qui, oggi, in una bellissima Domenica Italiana, tutto è cominciato. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.